un cordino di quelli corti però non mi fotografare ma sto facendo solo il video ecco mauro che piscia dalla cima dell'isola che non ce la faccio che volevo scendere ma mi fa un po' male la vescina un po' male facciamo una foto insieme un po' male 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti